Domani, 10 febbraio 2021, il sole sorge alle 7.27 e tramonta alle 17.38, durata del giorno 10 ore e 11 minuti. La luna si leva alle 6.56 e cala alle 16.08. Domani è Santa Scolastica, vergine da Norcia, è stata una religiosa italiana, patrona dell'Ordine delle Monache e Benedettine e della città francese di Le Mans, sita nella regione dei paesi della Loira, invocata contro le tempeste, le piogge e i fulmini. Il sole accoglie il suo maestare carnevale sui viali a mare con 60.000 spettatori presenti. Per il primo corso mascherato di quella edizione, ovvero quella del 52, un vero successo. Sui viali a mare sfilano 8 carri di prima categoria, 5 di seconda e 8 mascherate in gruppo, ad aprire il corteggio R Carnevale, realizzato da Alfredo Morescalchi. La vera novità la porta però Beppe Domenici, con il suo carro Follie del Progresso. Al posto dei buoi, a trainarlo, è un trattore, una vera e propria follia moderna per l'epoca. Così folle da convincere il Comitato Carnevale a rinunciare per sempre ai buoi. Dal secondo corso, infatti, tutte le costruzioni saranno trainate da trattori. La mia pancia ha un piccolo lamento, faccio straggio fra la folla, ma che goda quello stand? Tanta gente da spissita, ha già soldi tra le dita, c'è una voce che li invita. Bomboloni dolci belli caldi, ma sono i bomboloni del concerti, ne mangi due e ti viene da angioggiarti. Dalla calda alla pizza, richi...